Hola sui famigli e bentornati in questo nuovissimo video ma soprattutto bentornati nella mia playroom è tipo notte inoltrata e io quando è notte inoltrata mi vengono in mente le idee più disparate cioè voi non fateci caso perché così di punto in bianco ho detto voglio scartare assolutamente una LOL Surprise e difatti eccomi qua con una LOL Surprise in mano pronto a scartarla insieme e rieccoci qua a Swirl Family con in mano la mia ball pronta da essere scartata ma prima di cominciare a scartarla volevo anche dirvi che questo è il video saluti ovvero farò veramente molto la svelta a scartarla perché non vedo l'ora di arrivare a salutarvi tutti o meglio una parte di voi oggi saluterò perché siete veramente in tantissimi e tutti in un video non riesco a mettervi perché avrebbe tipo un video lungo lungo ore 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 perciò oggi ci sarà una parte e poi prossimamente cioè in settimana arriverà anche la seconda parte del resto dei nomi che devo salutare perciò se non sentite il vostro nome adesso non scrivete non mi hai salutato eccetera perché comunque presto arriverà un altro video saluti dove ci sarà all'interno il vostro nome quindi vabbè bando le ciance cominciamo velocemente a scartare la ball e sono veramente curioso perché aiuto io spero di non trovare un altro doppione visto che l'ultimo video saluti con unboxing lo surprise trovato un doppione e cominciamo a scartare la prima zip ho trovato una bomba con una ciliegia e c'è scritto come indizio cherry bomb cioè io mi auguro che non sia un altro doppione perché io questo indizio l'ho già trovato e dovrebbe essere quello di foxy se non sbaglio ok continuiamo con la seconda vabbè come già sapete può piangere può cambiare colore può fare la pipì può sputare acqua insomma ormai li conosciamo già a memoria anche chi non conosce le lol conosce gli elementi cioè conosce le funzioni che potrebbe avere ok terzo strato dovrebbe esserci il finger tattoo ovvero è l'anellino tatuaggio per le nostre vita no vabbè cioè io sto male forse ho trovato ancora un doppione cioè guardate ho trovato l'adesivo praticamente uguale a quello di foxy trillona preparati che se è un doppione sicuramente te lo invio e me lo costumizzi e se non siete ancora iscritti al canale della trillona 87 mi raccomando passate anche da lei perché è fantastica, è fabulous cominciamo allora cominciamo a scoprire i vari spicchi spicchio 1 blood bag scusa ho trovato ok ho trovato un paio di stivali sono bianchi sì non è foxy adoro allora sono un paio di stivaletti bianchi guardate c'è stra anni 70 praticamente figlia di fiori secondo spicchio oh mio dio ma è rovinato no ma c'è guardate ho trovato il biberon che sarebbe tipo a forma di cartoncino del latte ma è tutto rovinato è tutto deformato ok spicchio 3 allora ho trovato questo vestitino due pezzi ovviamente floreale composto da gonna e toppettino è pazzesca quarto spicchio dovrebbe essere tipo un paio di occhiali sì ok esatto questo paio di occhiali super giganteschi anni 70 ovviamente a mascherina ok adesso siamo arrivati alla funzione quella principale ovvero quella che Swin Vanilla adora sempre di più ovvero i pronti c'è giù pure mia nonna che sta dormendo sicuramente la sveglierò ma non importa pronti partenza oddio ho paura vi vieni yeah volevo fare il pop invece non ce l'ho fatta a farlo perché avevo paura di svegliare mia nonna di dire la verità perché è veramente notte inoltrata qua abbiamo la nostra lol la nostra checklist che poi sono volati i foriandoli ovunque cioè ho la camera piena ok in base ai vestitini adesso che ho trovato guardate provate a individuare la lol questa qua la checklist guardate 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 cosa abbiamo trovato ovviamente abbiamo trovato una lol del retro club ed è gogo girl è una popular e potrebbe cambiare colore o fare la pipì è bellissimo cioè guardatela è favolosa ok la vesto immediatamente perché è bellissimo cioè poi c'è questo casco di di capelli che io ho troppo anni 70 è molto vintage ovviamente che è retro club è fantastica cioè guardate che cosa non è questa lol surprise mi dispiace un po' per il per il bottiglietta del latte però cioè guardate è bellissima quindi niente questa qua era la lol surprise che ho trovato in questa nuovissima bowl e adesso ovviamente passiamo all'angolo dei saluti di Swir Vanilla è pronto con il mio taccuino super unicornoso allora comincio veramente vado molto veloce se sbaglio dei nomi perdonatemi allora saluto Elisa Di Tommaso Rainbow Soda Melissa Loperfido Sofia Mellis Tina Durgali Maria Sofia Azella Channel Daniele Generoso Sara Cicchinelli Federica Terenzi Serena L che la saluto tantissimo le mando un bacione che mi commenta sempre i video Miss Franchix Michela Guida Lady Dani Ali Rose 2018 e Beatrice Marufetti Antonella Falini Veronica Mates Virgi Foxy Fox Gaia Piccirillo Francesca Giulia Checchi Carla Unicorno 2 Letizia Prosperi Lulu Chiara Di Stazio Harry Potter Lori Amber Concetta Runza Sabrina Samudi Marco Inzillo Eleonora Franzoni Sara Zariello Fran Cicchette Giorgia Rudino Esuita Dele Martina Love Passiamo al terzo foglio Tobias Ferraro Ferreri Gabriella Samar Amo Slimer Slimer Katia Tota Alice Sarno Alice Angelica Mi Saluti De Luca Lusiana Marchettini Nunziano 2 Laura Battistini Giulia Perla Antonello Costantino Vincenzio Persichino Zoccolino Coccolino Gaia Kavai Review Poi Ultimo foglio Anna Camerin Naira Rubino Swad Manui Aurora Veroli Matrix 08 Maria Saturno Franci Morosini Aurora Love Laura Zaira Campo Ambra Landi La Franci 07 Natasha Starr Anna Spirito Anna Maria Pinto Patrizia Cuccorullo Andrea Benedetta Lello Veneruso Gaia Che voleva essere salutata dalla mia Dusk Che invece è di sopra che sta dormendo Dusk Maria Enrico Alessia Volpicelli Carolina Finamore E Chirandi Caur E questo qua è il mio saluto per tutti voi E vi ringrazio di essere sempre sotto ogni mio video Prossimamente ci sarà la seconda parte dei video saluti Quindi quelli che non sono stati salutati oggi verranno salutati prossimamente Io spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like Iscrivetevi al mio canale YouTube Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network Instagram, Facebook, Twitter E mi trovate anche su Musical.ly Per adesso vi mando un bacio gigante E noi ci vediamo al prossimissimo video Ciao E non dimenticatevi di passare anche dalla Trillona 87 E noi ci vediamo al prossimissimo video E noi ci vediamo al prossimissimo video